mi chiamo a tutta la gente che pratica a credere a quello che sta succedendo in Italia vi ricordate il ritornello? ve lo ricordate? come fa? come fa? come fa? non ci sono cose che nessuno ti darà ci sono cose che nessuno ti darà sei nato e morto qua nato e morto qua nato nel paese dove fuggi in Italia pistole e macchie in Italia ma capelli e foscolo in Italia i campioni del colpo sono in Italia benvenuto in Italia fatti una vacanza al mare in Italia meglio non farsi operare in Italia e non andare all'ospedale in Italia la bella vita in Italia nei grandi serate in gala in Italia fai affari con la mala in Italia il vicino che ti spara in Italia ci sono cose che nessuno ti darà come fa? ci sono cose che nessuno ti darà come fa? sei nato e morto qua sei nato e morto qua nato nel paese Ci sono cose che nessuno ti farà, come farà, se nato è morto qua, nato è morto qua, nato nel paese, dove fuggi in Italia? I veri mascosi sono in Italia, i più pericolosi sono in Italia, le ragazze nella strada in Italia, ma ci basta fatta in casa in Italia, quando entra i ladri in casa? In Italia, non trovi un lavoro fisso, in Italia, ma faccio il crocifisso in Italia, i monumenti, in Italia, le chiese con i bici, in Italia, la gente con dei sentimenti, in Italia, la campagna e i rapimenti, in Italia, ci sono cose che nessuno ti farà, come farà, se nato è morto qua, nato è morto qua, nato nel paese, dove fuggi in Italia? Perfetto